Se mi curo il video finisce Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'idem shop Scrivere codice creatore fortu così come vedete a schermo Accettate, da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Come potete vedere ragazzi voglio farla in arena perché secondo me è il metodo migliore per tentarla Dato che comunque ogni kill ci verrà dato 50 di vita in generale o di scudo o proprio di HP Ragazzi intanto vi ricordo che noi stiamo registrando questo video in una live Effettivamente in una live sul sito Viola Infatti per chi non lo sapesse ormai sono 4 mesi che io porto ogni sera live sul sito Viola Quindi mi raccomando se volete iniziare a seguirmi basta che andate in descrizione nella sezione live streaming E mettete il follow poi stasera saremo in live Ok ragazzuoli a me sembra che ci siano cioè ci sia solo una persona qui Quindi volendo due ok sono due vabbè comunque si può fare non è nulla di ancestrale E allora mo vediamo di dare un attimo una controllatina alla cesta qui sopra Pozza grande vabbè peccato peccato Posso di certo portarla però io qui vorrei provare a fare sta cosa ok Voglio comunque ragazzi provare a utilizzare il nuovo fucile a pompa dato che a poco a poco mi ci dovrei abituare a utilizzarlo Specialmente perché magari se in un game mi ritrovo solo quello all'inizio Cioè non è che posso fare il diciamo lo schizzinoso ecco 60? A serio? Ok va bene a posto così Ok quindi prima andata Mi prenderei la mitraglietta e andrei avanti Ok ragazzi noi abbiamo vantaggio potremmo metterci 5 armi Che non sarebbe insomma veramente non male Dobbiamo raccogliere tutti i punti di vista positivi che possiamo in sfide del genere Il problema però è che comunque a prescindere ora dal grado di livello basso a cui sono in arena Perché non gioco praticamente mai in arena dato che non amo lo stile di gioco Il problema sarà comunque raga non farsi dare neanche un colpo perché andare avanti a curarsi con 50 di vita A meno che veramente non trovo tutti i scarsoni sarà comunque un po' complicatuccio Noi cerchiamo di fare del nostro meglio Sa di fatto che devo stare attento perché in realtà già nelle sfide precedenti Cioè nella partita precedente mi era venuto spontaneo raccogliere cure e utilizzarle Però non è proprio il top diciamo ecco Allora sicuramente c'è gente questa è una buona cattiva notizia diciamo così Ah lo squalo squalo lasciami stare squalo 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 vattene Eh bravo infatti Gente la sento già da qui Si stanno fai dando in quella zona posso provare? Si sta si sta chiudendo perché probabilmente ha paura No che noia Uh bella sta chiusa ragazzi si è fatto fra dell'interessante Ma se mi intermetto qui ti offendi? Modifica dai modifica No non vuoi modificare evidentemente ok Allora questo me lo prendo io Questo me lo prendo dato che non posso fare altro effettivamente Ok allora andiamo avanti così dai Sento altra gente che sta fai dando in quest'altra zona Se riesco ad affacciarmi un secondo Vediamo un attimo se è la gente magari con le armi che stavamo cercando Oh oh fratelli Ciò in testa raga sta cercando di entrare Dovrebbe stare molto vicino Io raga cammino così per sicurezza e spero che nessuno si offenda Ah ok 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 vabbè Vabbè dai ho capito devo raggiungerlo io altrimenti questo diventa una noia Va bene fratelli Andiamo a fare chi è più figo Io posso switchare stile di gioco man se non puoi mi sa Ups man Fatto maluccio Allora calmi tutti che questo è una roba molto interessante Questo è mio Questo è mio Ok per ora niente cure Sta procedendo benino Dirla tutto Devo cercare comunque raga io di vincere le partite perché se continuo magari a perdere e a fare punti Io poi vengo gioinato sempre con gente più forte E poi a quel punto diventa competitive e cercare di non raccogliere cure diventa impossibile Quindi devo sfruttare l'occasione finché posso in realtà Io sento che sotto ci sta un tizio con l'arma del boss Sì sotto c'è un tizio con l'arma del boss mi fa molto piacere Ammi queste granatine E tutta sta roba a me non interessa Sono tutte cure che non posso portare quindi Proviamo raga Ma io credo che me le ritroverò praticamente addosso No eh infatti non è servito Rip Vado lì è una cosa veloce che sta arrivando un altro dai Mi dovrei far perdere tempo io vado nel panico quando arriva altra gente Perché so bene come funziona in questi casi In questi casi ci va sempre for tutti i gamers sotto Era scarico Che panico era scarica la drum gun Meno male meno male raga Non so come sono sopravvissuto ma era scarica Aveva tipo non lo so altri cinque proiettili Mi è andata benissimo ok Dato che comunque abbiamo una buona mobility ma quello è un nemico Ciao fratelli non c'è bisogno Tranquillo fratelli tranquillo Perché se gli entro dentro la box Credo che mi massacri Ma capito come Pure che tengo 190 di vita Non credo poi di avere dopo una vita Che mi permetta di continuare a giocare Cioè quasi quasi direi andiamoci Non fa nulla Cioè raga Ragioniamocela non è il caso No vabbè raga è 41 ma sì ma Uh ma serio Fratelli Fratelli vuoi giocare No perché se vuoi giocare non ci metto niente fratelli Ciao Mi interessa la sua roba Ok non so neanche io come sono sopravvissuto qua Ok mi ha cominciato a piccare pure lo squalo Ma basta Questo squalo che sta solo su di me Che noia E sta affaitando in realtà Credo No no sta guardando me Sta guardando me Credo perlomeno No no sta affaitando Ma che che Non lo capisco sto tipo fratelli Ma che sta a fare Vuole eliminare Voleva eliminare lo squalo Oh bravo Interessante Lo sapevo che non era una grande idea Faitare questo Però vabbè Spero di non essermi curato in nessun modo per ora Giusto Giusto Questo squalo però c'è un po' rotto Eh perché ora sta tornando qui Lo so bene Lo sentivo Ok sarei molto tentato di farmi questa pozza grande Ragazzi mamma non posso Andiamo nella zona di Lazy Lake Credo sia il caso effettivamente Io a livello di armi raga Ormai sto messo bene Quindi Aprire le cesti Io non so a questo punto A cosa ci possa servire Dato che non mi serve praticamente altro Eh infatti mi è arrivata una cecchinata fratelli Infatti mi è arrivata una cecchinata Da destra Da destra però Io ora Comincio ad avvicinarmi in quella zona Se riesco Calmi tutti E' scarso fratelli Questo qui è scarso fratelli Devo eliminarmelo Perché è facile pure Di eliminare questo Per me è che ci sta sparando Altro tipo No questa raga E' solo una questione di mira Questo tipo Dove? Stai andando Dicevo una questione di mira Quindi Il tutto torna Il tutto torna dai So dove è andato Ho due colpi ancora in canna Posso ancora farcelo Sta qua dentro raga Lo sento Ma fratelli Ti ho pusciato proprio brutto Mi credi proprio brutto 24 Bella Ok Però sta arrivando qualcun altro Calmi raga Me ne voglio andare Meglio scendere Dai non fa niente Siamo ancora in set Cioè Da 8 che eravamo Non altro L'ho eliminato giusto io Poi siamo rimasti uguali Sei serio? Come le ho prese Mamma mia Ho fatto una cosa rischiosissima qua Non pensavo ci fosse una porta Non pensavo ci fosse una porta Fratelli Non pensavo ci fosse una porta Devo cominciare ad avviarmi in safe dai Mannaggia raga Qua è brutta però così eh 109 di vita è un casino Cioè devo provarmi a piccare qualcuno da lontano Perché Comincia a diventare molto più pericoloso muoversi Comunque il tizio Ah Sono sia a destra che a sinistra Questa è una brutta cosa però fratelli Qui sotto ci sta qualcuno? Sì Bello Interessante No no fratelli guarda Se vuoi far così io me ne vado E basta Cioè come ha fatto raga Qualcuno me lo spiega 76 Sta messo meglio di me Su sorella Ma raga Questo mi dà un colpo Se è stato vagamente bene Sono morto Cavolo sei Che cosa divertente questa Vabbè sono morto fratelli Ah raga Seriamente Seriamente dovevano a finire così E ragazzi a questo punto devo aspettare che fightano un po' tra di loro Devo provare a sciacallare Una coppia di nemici che si elimina a vicenda Perché non posso fare altro Io in realtà qua non sto in safe Eh non è una bella notizia Dovrei Spostarmi giusto di un poco Ok un tizio sta Cercando di lendare Ti prego non dirmi che stai lendando su di me Ma a serio Ma a serio Questa cosa Questa cosa è scandalosa Dai te prego Dai te prego Dai te prego Dammi quella kill Dammi quella kill Ma cosa dovrei fare ora Era la mia unica occasione per provare a ritornare con 70 di vita Non sto messo Ma mannaggia tutto Che lo sapevo Che finiva male Fammi aprire qua E fammi andare Porto Ma che c-che-che-che significa questa cosa Che significa Che significa Fratelli Ma che-che in che lingua me lo stai dicendo In che lingua me lo stai dicendo No ti prego Fratelli muori Ti prego Ti prego Mi serve Mi serve Ah un po' di vita Grazie Mamma mia Ma in che lingua me lo stai dicendo Fratelli Ma stai a scherzare Mamma mia Mi hai preso un panico Non so come non abbia fatto a colpire In questo caso La-la gente di-dell'open league si fa sentire Man Che presa in giro sta cosa Ho detto Abba vado al cespuglio Che tanto Chi c-che-che può mai stare nel cespuglio Eh tu sorella C'è sta invece Dai se riesco a piccare questo Però No safe Siamo in tre Siamo in tre Siamo in tre Sui ultimi Sui ultimi Fratelli Devo correre Fratelli Devo correre Fratelli Devo salire sopra Fratelli Devo salire sopra Questa cosa finisce così Fratelli Mi sa Questa cosa finisce così Fratelli Mi sa Provo a far così Fratelli Ma io non credo che va bene a sta cosa Finchè c'ho il tempo Finchè c'ho l'oro distratti Io provo a far sta cosa Fratelli Finchè c'ho l'oro distratti Io provo a far sta cosa Fratelli Mi sono eliminato uno Fratelli manca quell'altro Manca quell'altro ciccio fratelli Manca quell'altro ciccio fratelli è uno E uno io so fortu the gamer fratelli Io so fortu the gamer Signori Vi c'è la sfida se mi curo il video finisce Grazie a tutti